Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto alle 20.45 processione della parrocchia San Giacomo da via D'Amenochiesa per via Ghione, strada 7, strada della Magra, via Vittime di Bologna, ritorno alla chiesa alle 21.30. Processione dal santuario di Sant'Antonio da Padova, da via Sant'Antonio da Padova, per Corso Vinzaglio, Corso Matteotti, via Avogadro, Corso Vittorio Emanuele, Corso Bolzano, via Sant'Antonio da Padova, semafori in manutenzione da oggi e sino a venerdì in Corso Grosseto, angolo via Bibiana, veniamo alle notizie di domani, giovedì 14 giugno, domani controlli velocità in via Pietrocossa, Corso Potenza, strada aeroporto e Corso Settembrini, alle 10.30 domani l'intitolazione della scuola d'infanzia a Margherita Hac in via Coppino 147, causa assemblea indetta da sindacato CSA per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della città di Torino, possibili disagi e chiusure dei nostri sportelli in via Bologna 74. Domani notte, come di consueto, le operazioni di pulizia meccanizzata con la chiusura e i sottopassi, 23.30, 1.30 chiuderà il sottopasso Repubblica Porta Palazzo, dalle 2.30 alle 4.30 di venerdì mattina chiuderà il sottopasso Lanza di Corso Massimo d'Azeglio. Domani, dalle 17.30 a fine servizio, la linea 59, entrambe le direzioni da Corso Tassoni, angolo via San Donato, prosegue in Corso Tassoni, via Cibrario, piazza Statuto, percorso normale. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.